Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Deborah Play finalmente con un nuovo video comunque seguitemi nel mio secondo canale che si chiama Baby e Gioele oggi come l'avete letto nel titolo vi farò vedere un po' di cose del fantolibro lo amo io parteciperò al loro incontro domani a Ipercop la torre per partecipare dovete prendere questo libro e il pass che vi faranno stare 5 minuti nel palco a fare una foto con loro due e fare il saluto delle trote comunque oggi vi farò vedere alcune cose di fantolibro comunque noi saltiamo le carte di identità perché le sanno tutti ormai ok questa pagina non l'ho fatta ma devo finire questa qua noi due siamo fidanzati e ci vogliamo un mondo di bene colora tutti i cuori che vedi io ne ho colorati pochi questo lo devo fare ancora top 5 scrivi 5 cose che ti piacciono di Sophie quinta i suoi occhi quattro ama i unicorni terza è bellissima seconda è solare prima è scherzosa top 5 scrivi 5 cose che ti piacciono di lui quinto è alto quarto i suoi capelli vabbè perché dico io tutte cose a me eccoci dicevo il quinto è alto quarto i suoi capelli terzo è sportivo secondo è spericolato prima è pazzo poi qua mi diceva scrivi una chat che per te è importante però io non l'ho fatto io ho fatto una chat che desideri io con Sophie che chattiamo Sophie dei miei contro te Sophie dice ciao e io oh mio dio sei veramente tu Sophie Sophie si e io muoio riempi questa riempi questa doppia pagina con tutte le parole che ti vengono in mente teamtrote pizza miei contro te hashtag teamtroteforever Sophie è lui questa non l'ho fatta perché io non le voglio fare tutte perché sennò mi tolgo il divertimento di ogni giorno vabbè comunque i compagni di scuola qua elenco un po' un pochino in elenco Alice Alessio Daniel Emanuele Federica Chetano 1 Chetano 2 Giuseppe Rosario Pisa Sofia e qua i banchi questa non l'ho fatta questa non l'ho fatta questa l'ho fatta Sofì e lui nei loro video sono vestiti sempre in maniera differente qual è l'outfit che preferisci di lui e quello di Sofì quello di Sofì jeans e maglietta gialla quello di lui maglietta con scritta ride e jeans questa ancora la devo finire una top 5 scrivi e descrivi in queste pagine le 5 challenge che abbiamo fatto che ti hanno divertito di più e io però l'ho scritto fino a quello 2 challenge battute con l'elio e la seconda challenge prova a non ridere il resto ancora la devo fare questa la pizza andiamo pazzi per la pizza scommetto che ti piace anche te come sapete a saperla non lo so disegna la tua pizza preferita e poi condiscila con un po' di salsa e pomodoro vera eccola questo qui è il contorno a sta cosa marrone e questo qui beh si ha 100 caratteri qua mi diceva io non ho fatti 100 perché sono giocata una verità ho scritto unici bravissimi bellissimi solari divertenti pazzi voglio bene fa il numero 1 abbiamo due cuccele di chihuahua super pucciosi chiamiamo un sacco si chiamano kirairei tu hai un animale in casa disegnalo e scrivi il suo nome non ce l'hai scrivici come dovrebbe essere il tuo cucciolo non è ma lo disegno cioè tipo io dico sempre che ho un cane un cane un cane nella mia testa però ricordatevelo ho un cane nella mia testa però qua PS disegno malissimo veramente guardate che schifo ho fatto vabbè comunque qua ho fatto solo una parte mi diceva di attaccare qua quanto lo scontrino e l'ho fatto per chi non lo sapesse il prezzo costa 15 euro e 90 aspettate la telecamera grazie grazie metti a fuoco 15 euro e 90 l'ho acquistato in via terra santa in via terra santa in una cartolibreria voi scrivete su internet e vi dirà dove sono tutte le cartolibrerie di via terra santa io ci sono andata e ho preso il fantalibro vabbè comunque continuo il mio piede sì questo è veramente strano mi sono messo i piedi mi sono messo un ticolo fatto con la matita il numero di scarpe di lui è il 41 quello di Sofì il 38 come il mio ho il piede come quello di Sofì ragazzi wow guardate guardate il mio piede perché è uguale a quello di Sofì ah ecco questo l'ho fatto stamattina quella è la prima cosa che fai alla mattina appena ti svegli e mi alzo mi metto le ciabatte vado in bagno mi prendo un po' di il cellulare e mi mangio le fette biscottate sì ah sì top 5 scrivi le 5 canzoni che abbiamo cantato e che ti piacciono di più quinta alas soli luna quattro alvaro solar no alvaro sofia e terzo princesa secondo signoresse e prima kirairei ecco qua i nostri sofi e lui ancora devo finire di colorare questa non l'ho fatta questa ancora devo finire questa è pazza io levo quelle cose pazze le faccio quando mi cavolo ecco qua top 5 scrivi i nomi dei tuoi 5 amici e descriverli oppure disegni una cosa che li rende riconoscibili ho scritto vanessa con il selfie alessia con il rossetto e gaetano con gli occhiali da nerd e il libro rosario con la bocca che parla bla 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 e dopo maria c'è c'è mari vabbè mari style kawaii che io la chiamo sempre maria con uno slime ah questo si l'aspetto vuole tanto comunque chi lo vuole sapere non è proprio all'inizio della pagina pagina 66 questo qui conosci il nostro motto yeah yeah nini nini qual è il tuo bene ragazzi vi sto per svelare una cosa io si ho un motto per il canale proprio oggi che lo spiega anche come si fa anche ed è boom boom bam boom la 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 ora vedete aspettate vi faccio capire si libro chiuditi facciamo finta che questa è un'altra mano perché si fa in due questo si fa bam boom la 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 e questo sarà il nostro motto tipo vediamo lo specchio bam boom la 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 sarà questo il nostro motto bambù la 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 si è questo questo non l'ho fatto la mia firma libro libro sembra vuota no vabbè comunque ragazzi ci sono mille pagine guardate 142 pagina 142 ma vi rendete conto ma vi rendete conto mi sembravano molto più poche del previsto comunque se volete altri video chiedeteli qui sotto nei commenti mi raccomando comunque oggi saluto alessiaplastuno il mondo di francesca grace 07 busta channel ignoranza amanetta poi maristyle kawaii poi i me controtese vedono questo video ma non lo vedranno mai sapete cosa vi voglio chiedere all'incontro ma di sicuro non lo accetteranno mai se si iscrive che si iscrivono a questo canale al nostro ebura play ma non succederà mai nella vita già lo so già lo so ma nella vita nel concerto io salito sul palco e gli chiederò ma mi potete si iscrivervi al mio canale e per favore mi contro te gli darò il bigliettino del mio nome che è dentro questa borsettina e gli darò il nome di youtube cioè da bura play io lo darò e se lo metteranno tipo in tasca e così lo prenderò e si iscrivono al mio canale ma le condome sarà impossibile comunque ci vediamo alla prossima aah 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 Grazie a tutti.